Davide Mendo, come si può raccontare la sconfitta? Anche perché il tuo Montecchia ha lottato, non è stato lì a guardare e poi nella fase finale della partita il Folloni ha preso il largo. Sì, diciamo che la differenza tecnica è evidente. È chiaro che eravamo venuti qua per fare un'altra partita, purtroppo ci siamo anche un po' riusciti fino a 5 minuti alla fine del primo tempo. Poi è quello che mi lascia un po' così, è che prendiamo gol su errori, magari su azioni più facili da difendere e non prendiamo gol su azioni che il Folloni che effettivamente studiava, faceva bene e lì anche a volte per un po' di fortuna, sinceramente. Però noi abbiamo preso gol su quelle situazioni, abbiamo preso gol sulle situazioni un po' più facili, sull'uno contro uno, sull'uomo in mezzo all'area che non lo marchiamo e quindi poi la partita cambia. Senti, però assenze anche pesanti, soprattutto il portiere, questo Martinez mi sembra. Insomma, quattro giornate sono tantissime perché quasi da galera e quindi insomma andrebbe un po' rivisto la storia. Però giocatori interessanti perché Vega è il colo, come si dice, insomma perché ha capelli rossi e il colorato. Però giocatori interessanti davvero. Sì, no, siamo una squadra giovane. Come dicevi te, stiamo pagando, non perché Cristian Cocco che sta giocando da tre giornate stia facendo male, anzi sta facendo anche più di quello che dovrebbe perché sta comportando bene. Chiaro che paghiamo tanto. Vorrei vedere anche le altre squadre senza il portiere per tre giornate, qualsiasi squadra. Martinez è un portiere di valore, sta avendo un rendimento molto alto in questo campionato e in una squadra come la nostra si sente la sua mancanza. Tra l'altro figlio d'arte perché sia il nonno che il padre portiere anche loro del Barcellona. Quindi insomma ce l'hanno il sangue. Sì, sì, sì. Adesso sabato rientra e speriamo di ricominciare un altro campionato. Siamo fiduciosi comunque. L'ultima battuta è chiaro che ogni punto conta perché poi insomma con i play-out si portano dietro. Questo Montecchio, la prima esperienza in Serie A1, ci vuole rimanere. Sì, lotteremo fino alla fine. Il nostro obiettivo è quello di riuscire a fare più punti possibile e poi vediamo dove saremo alla fine del campionato. E poi i play-out. Se andremo a fare i play-out, magari mi auguro anche di no perché abbiamo ancora tutti gli scontri diretti e vedremo. Comunque non molleremo un centimetro fino all'ultimo secondo dell'ultima partita.